Presidente, voti presenti 39.062, ha riportato voti, scarsella, 36.753. Applausi. Grazie. Credo che lo simile attestato sia dovuto a me, ma in modo particolare anche a tutto il Consiglio che ho avuto in questi anni. Quindi da parte mia, grazie a voi, ma complimenti bellissimi al Consiglio passato. Continuiamo i nostri lavori. C'è una mozione d'ordine che chiede... La mozione d'ordine è presente...